Debutta giovanissimo, ad appena sei anni, con il documentario Il Natale di Bebé, prodotto per la Cines e diretto da Carlo Campogalliani, e continua poi a recitare da bambino, con notevole disinvoltura, in parecchi film dell'inizio del sonoro. In qualche caso queste partecipazioni furono eruoli minuscoli, fra i quali il figlioletto di Napoleone, il re di Roma, in campo di maggio di Giovacchino Forzano, 1935, mentre nel 1934, a otto anni, fu protagonista del Canale degli Angeli. Unico film a soggetto prodotto e diretto da Francesco Pasinetti, continua l'attività di attore bambino nel cinema fino al 1942, senza diventare celebre come i vari Cesare Barbetti, Paolo Ferrari, Corrado Pani ed Elio San Angelo dell'epoca. E successivamente si dedica anche al teatro su invito di Forzano, facendo parte di prestigiose compagnie come la Cervi Pagnani, Stival, Ruggeri, Cimara e quella del teatro Eliseo. Dopo aver svolto un'intensa attività radiofonica entra a far parte di una compagnia di doppiaggio, dove diventa una delle voci più richieste per attori stranieri e non soltanto. Pino Locchi è famoso per essere stato il doppiatore ufficiale di Sean Connery, oltre ad aver prestato la voce anche a Tony Curtis, Sidney Poitier, Martin Balsam, Roger Moore e George Lazenby. Questi ultimi due, come Connery, nel ruolo di James Bond, e di Anthony Perkins nel celeberrimo Psico di Alfred Hitchcock, è stato anche la voce di alcuni duri del cinema come Charles Bronson, Steve McQueen, Clint A.S.T. Wood, Kirk Douglas, Bart Lancaster e Charlton Stone. Ma anche di attori di straordinaria bellezza come Robert Wagner, Omar Sharif, John Gavin e Richard Burton, in Mia Cugina Rachele e il Letto di Spine. È conosciuto anche per aver doppiato Richard Grenna, il colonnello Samuel Troutman in Rambo e Rambo secondo La Vendetta, Michael Kaine, John Derek, Jeffrey Ante, Cliff Robertson, nei tre giorni del Condor. E il cantante Elvis Presley nella parte recitata dei suoi film, oltre ad aver doppiato attori di livello internazionale, Tino Locchi è stato anche il doppiatore di alcuni attori italiani. Infatti è sua la voce di Terence Hill nella maggior parte dei film girati in coppia con Bud, Spencer, doppiato da Glauco Onorato, come lo chiamavano Trinità, continuavano a chiamarlo Trinità, chi trova un amico, trova un tesoro e il mio nome e nessuno. Altri attori italiani da lui doppiati sono Maurizio Arena, Giuliano Gemma, Maurizio Merli e i cantanti Claudio Villa e Teddy Reno. Doppia anche alcuni personaggi nei film di animazione della Disney. Il Bulldog Toy in Lily e il Vagabondo. Doppiaggio originale, Caio in la spada nella roccia. Gas Gas in Cenerentola, riedizione del 1967, l'orso marinaio in pomidottone e manici di scopa. L'orso balun nel libro della giungla. Little Johnny Robin Hood. Entrambi questi personaggi sono doppiati da Phil Harris nelle edizioni originali dei film. E' il re Tritone nel film La Sirenetta. Muore a seguito di due infarti il 21 novembre 1994. All'età di 69 anni, il suo ultimo doppiaggio è stato caro zio Joe del 1994.